Ciao, qui è Ruggero da Upgrade to ProDrummer Bootcamp 2022 e oggi con questo video voglio raccontarti una storia che è successa a un batterista diversi anni fa. La storia è andata così. Nella seconda metà degli anni 90 questo nostro batterista si è trovato finalmente per la prima volta a fare i primi passi all'interno dell'ambiente professionale in occasione di una proposta che gli venne offerta da una band emergente ma molto promettente di registrare tutto il disco che sarebbe uscito di lì a poco. La produzione era piuttosto importante quindi questa sembrava un'ottima occasione per cominciare a fare una carriera anche in studio di registrazione per il nostro amico che comunque non aveva mai fatto quel tipo di esperienza. Arriva in questo studio e si accorge di essere in uno studio di serie A. Durante il montaggio dello strumento e della microfonazione il nostro eroe però comincia ad avvertire qualcosa di ostile intorno a lui. Va bene si procede per il soundcheck cominciano a farsi suoni in studio si fa una prima take e poi la registrazione si interrompe e tutti spariscono. Te la faccio breve dopo un paio d'ore di questo sparire comparire parlottare di nascosto eccetera eccetera viene chiesto al nostro eroe di rimpacchettare la sua strumentazione e di tornarsela a casa. Puoi capire il livello di frustrazione e umiliazione provata dal nostro eroe più che altro perché non aveva capito che cosa era successo. Con il senno del poi il nostro eroe ovviamente ha razionalizzato e anche capito che il problema era il fatto che i professionisti intorno a lui avevano percepito la sua insicurezza e la sua inesperienza. Ma andiamo avanti qualche mese dopo il nostro eroe si trova coinvolto in un'audizione per un noto cantante pop sempre italiano che stava preparando un tour. Il nostro eroe rinfrancato da questa nuova opportunità va a sostenere questa audizione. Mentre monta lo strumento sul palco nota intorno a lui un certo tipo di silenzio strano. Nessuno parla, i musicisti sul palco non parlano e vabbè si procede e si suona il pezzo scelto per l'audizione. Durante l'esecuzione del brano il nostro amico pensa sto facendo bene perché il pezzo gira bene il sound c'è e questa volta ce la faccio. Finisce il brano silenzio totale l'artista scende dal palco senza dire una parola e si chiude in una stanzetta con la produzione. Dopo qualche minuto si apre la porticina esce il produttore non l'artista che dice al nostro eroe guarda ci dispiace ma non sei quello che stiamo cercando. Per il nostro eroe ecco un'altra coccente delusione. Qual è la morale di questa storia alla fine dei conti? La morale è che se quando passa il treno giusto tu non ti fai trovare pronto e sali su quel treno c'è il rischio che tu venga sbattuto fuori dal treno in corsa. Oggi come oggi la quantità di opportunità di treni che passano si è assottigliata parecchio quindi è molto importante essere la persona giusta, il batterista giusto, al posto giusto, al momento giusto perché non sarà facile acquisire quel tipo di esperienza che il nostro invece amico e poi ti dirò di chi sto parlando ha potuto fare in seguito ma la domanda che voglio farti è questa che valore hanno questo tipo di esperienze? Faccio un esempio se il nostro amico avesse fatto la cosa giusta in studio avrebbe portato a termine il lavoro e sarebbe stato anche pagato bene e avrebbe continuato la sua carriera con quella band magari per i live successivi e i dischi successivi ma questo non è avvenuto. La stessa cosa vale per l'audizione per il tour che cosa sarebbe successo se lui avesse vinto quell'audizione se avesse fatto subito la cosa giusta e quindi avesse partecipato al tour e quindi avesse guadagnato credibilità nell'ambiente professionale e anche guadagnato dei soldi quanto saresti disposto a pagare per acquisire questo tipo di esperienza senza commettere quegli errori nell'ambiente professionale che potrebbero anche compromettere l'evolversi della tua carriera. Secondo me il nostro amico se avesse potuto investire le prime due o tre date del tour per intenderci per avere quel tipo di esperienza per fare all'audizione subito la cosa giusta le avrebbe investiti sicuramente e tu saresti disposto ad investire le prime due date di un tour o la paga di un turno in studio di registrazione per avere già in tasca questo tipo di esperienze. Se io ti dicessi che esiste un posto dove potrai fare questo tipo di esperienza guidato da professionisti di alto livello esperti di questo settore e potrai fare di fronte a loro tutti gli errori che ti servono per imparare e acquisire le giuste esperienze senza che ci siano conseguenze perché sappi che se fai questo tipo di errori nel posto sbagliato potresti compromettere anche la tua carriera. Ma prima di parlarti di questa grande opportunità voglio svelarti chi era il batterista della storia. Ero proprio io. Per mia fortuna poi in seguito ho avuto anche l'opportunità di parlare e avere l'aiuto e supporto di amici e colleghi che mi hanno spiegato dov'è che io facevo gli errori in studio di registrazione e nelle audizioni. E in questo modo facendo esperienza e facendo tesoro dei consigli dei miei colleghi più esperti piano piano sono riuscito a ricostruirmi una carriera che poteva essere compromessa. Questo per farti capire che io e te siamo perfettamente uguali. Tutti abbiamo fatto un percorso e abbiamo fatto i nostri errori durante il percorso. Non conta fare tantissima esperienza se non impari dalle esperienze. Bastano poche esperienze ma se da queste esperienze impari tanto il tuo processo di evoluzione sarà molto più rapido. E allora a memore di quelle esperienze negative che ho fatto in passato ho deciso di creare un programma basato proprio su questo tipo di esperienza che si chiama appunto Upgrade to ProDrammer. Se sei interessato a fare questo investimento in una quattro giorni intensiva dove potrai fare esperienza affiancato da tre grandi professionisti che sono Roberto Gualdi che è uno dei batteristi più registrati in Italia che si occuperà appunto di farti fare pratica in studio di registrazione. Poi ci sarà Gaetano Fasano che da un punto di vista di conoscenza della tecnica dello strumento è un'autorità in Italia e poi ci sarò io che ti guiderò nella lettura e nella scrittura delle drum chart. Alla fine la sera suonerai simulando un'audizione con una band reale di musicisti professionisti clicca sul link che trovi in giro per il post in modo da prenotare una call ovviamente gratuita con me dove ci conosceremo e valuteremo la tua situazione attuale e poi ti darò tutti i dettagli anche per quanto riguarda il prezzo e i pagamenti. Perciò se tu credi di essere il batterista giusto per partecipare a questo bootcamp che si chiama appunto Upgrade to ProDrammer allora iscriviti, partecipa perché noi siamo qui pronti proprio per aiutarti a fare questo Upgrade. Un abbraccio da Ruggero e spero proprio di conoscerti e poi di incontrarti di persona al bootcamp il 29 di ottobre. Ciao!